Beppino, prima di fare una svolta dove sta Beppino? andiamo andiamo vai Beppe, vai vai Grillo vai Beppe e che fanno per la piove eh, eh, eh Beppe, alzi la testa, Beppe Beppe, alza la testa Beppe, alza la testa Grillo, non è merda e non è merda e non è merda qua, Grillo cazzina tutti i personaggi tutti i personaggi tutti i personaggi переход la postura intervistibile l'attimana o lo è questo vi ci oggi è il e gli u ai Grazie a tutti i nostri compagni!